Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi volevo provare Prima di utilizzare l'intelligenza artificiale Dopo tipo un anno che ho fatto un video Dopo l'utilizzavo Questa volta per creare un video e caricarlo su Youtube Lo caricherò poi su questo canale Che ho utilizzato per diversi video Iniziamo subito Qua abbiamo chat GPT Gli chiediamo adesso subito Dobbiamo chiedergli un'idea per un video Facciamolo di Minecraft Dimmi delle idee Per un video Su Minecraft Beh costruzioni epiche ci sta Vediamo quindi prendiamo questa idea Belle idee Di titoli Per un video Di Minecraft Sulle costruzioni epiche Creare una città futuristica Ricostruire un monumento famoso in Minecraft Progetto epico La torre più alta di Minecraft Mi piace la torre più alta di Minecraft Generiamo una copertina per questo video Abbiamo quest'altra intelligenza artificiale Che serve per creare le immagini Adesso io devo dargli la descrizione in inglese Copertina di Youtube Minecraft con la torre più alta del gioco Proviamo a fargliela generare C'è il caricamento Lì vediamo cosa crea Vabbè dai Non fa tanto schifo Sembra Minecraft C'è una torre molto alta C'è anche un gigante accanto Non so perché Però dai Ci sta Abbiamo qui un'altra intelligenza artificiale Questa serve per le voci E dobbiamo chiedere al chat GPT Pure il copione Quello che dirà la nostra intelligenza artificiale Quindi Scrivi un copione Per un video di Minecraft Dove si costruisce La torre più alta del mondo Vediamo Musica epica in sottofondo Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Minecraft Beh dai Qualcosa si può ottenere Io copio tutto Direttamente Ok Chiede pure di iscrivervi Lasciare like Cosa dovete fare anche voi Ok Copiamo tutto Adesso Noi abbiamo un generatore di voce Oh oh Ci deve pagare E però C'è in italiano Si c'è in italiano Ecco l'italiano È una voce fuoricampo per un video Ma devo pagare pure questo Dimmi che è gratis Ti stavo aspettando Sono una voce adolescente Per una narrazione giovane Si chiama Giovanni Rossi Più italiano di così Ciao a tutti E benvenuti in un nuovo video di Minecraft Oggi affronteremo una sfida davvero straordinaria Sì Va bene Un sacco di emozioni in questa voce Dovrò prendere un video Dove uno costruisce Beh questo ha costruito un grattacielo Sì in 26 minuti Ci vuole un po' per scaricarlo Però dai ci sta Intanto la voce Che appunto è Ce l'abbiamo C'è tutto l'audio Lo posso scaricare Ok ragazzi Invece di provare a montare direttamente il video Con l'intelligenza artificiale Che si fa un casino Comunque la cosa Lo monterò velocemente Su Filmora Intanto cerchiamo una musica Attraverso appunto L'intelligenza artificiale Vediamo cosa si può fare Niente È pagamento pure questo Generate music Lo fai Rilassante quindi Ok metterò questa Di 30 secondi all'infinito A ripetizione Download ti prego A posto Abbiamo anche la musica Sono pronto Questo video È un'opera d'arte Ragazzi Ed ora in poi Aprirò un canale Da faccetta Con l'intelligenza artificiale Con questa voce Bella Profonda Sensuale È piena d'emozione E farò i miliardi di iscritti Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Potete vedere Questa grande opera d'arte A fine video Ci sono le schede Appariranno Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Lasciate like Eccetera eccetera E addio